ho interrotto sul sul si maggiore settima fatto con posizioni alternative che ovviamente ancora non sono in grado di fare per il momento con posizioni la stai i do avviva no i keep ma quei la stai do i love i play the serenity Grazie a tutti 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 Grazie a tutti